L'Agenzia Nazionale per i Giovani incontra Napoli con l'obiettivo di promuovere il Corpo Europeo di Solidarietà, il programma Erasmus Plus e le principali opportunità per i giovani partenopei. Il Corpo Europeo di Solidarietà è un'azione dell'Unione Europea che promuove la solidarietà nella società europea, coinvolgendo i giovani e le organizzazioni in attività di solidarietà accessibili. Erasmus Plus invece è il programma europeo che dà ai giovani l'opportunità di studio, formazione ed esperienze lavorative o di volontariato all'estero. La presentazione questa mattina nella sala giunta di Palazzo San Giacomo alla presenza del direttore dell'Agenzia Nazionale per i Giovani Domenico De Maio, dell'assessore ai giovani del Comune di Napoli Alessandra Clemente, dell'assessore ai finanziamenti europei Monica Buonanno e del sindaco Luigi De Magistris che proprio su queste opportunità sottolinea. Ci è stato dato atto che in questa città si sta facendo tanto anche con pochissime risorse e che il riscatto di Napoli soprattutto attraverso i giovani adesso non è solo un dato che cogliamo non in città ma è un dato di rilevanza nazionale che le istituzioni del nostro paese cominciano a cogliere sempre di più e anche con qualche fondo che magari arriva come ci è stato detto ulteriori opportunità possono crescere tra i giovani e non solo nella nostra città.